siiii e adesso ragazzi ci siamo vicini non diciamo a cose, non diciamo niente però ci siamo vicini era importante far bene io ho detto dai cazzo il gol la lo possiamo fare però onestamente mi aspettavo un Monaco che la buttasse dentro almeno una e di fatto comunque ci è andata parecchie volte vicino a volte sono stati poco bravi loro a volte è stato fantastico Buffon come una volta su un Bappé nel primo tempo e una volta su Germain nel secondo tempo e tali modi il Monaco non ha segnato come il Barcellona anche il Monaco in casa aveva sempre fatto una caterva di gol mi pare che Pardo avesse detto che nella fase di eliminazione diretta ne faceva almeno 3 alla volta ne ha fatti 250 contro il City ne ha fatti mi pare 6 o 7 contro il Borussia immagino ne abbia fatti parecchi anche ai gironi perché comunque ha fatto 18.000 gol qualcuno ne avrà fatto anche ai gironi siamo arrivati noi e come il Barcellona zero niente cartellino pulito difesa tanto per cambiare spettacolare a volte giustamente il Monaco è stato pericoloso ma proprio perché sono bravi loro c'è quel ragazzino porca troia dicembre 98 è assatanato giustamente è giovane quindi c'ha voglia di fare tutto però è veramente un talento corre ha ottimi piedi ottima visione di gioco intelligente se rimane umile questo diventa un fuoriclasse non c'è nulla da dire è andato diverse volte vicino al gol non così vicino però ha creato diverse occasioni si è reso pericoloso diverse volte mentre invece da noi ha segnato quello che in Europa fa cagare che non è mai decisivo che fa schifo 90 milioni solo per il campionato una squadra come la Juve che punta la Champions mentre invece questo qui è il suo quinto gol stagionale in Champions League che mi pare solo una volta abbia fatto meglio mi sembra o due o tre anni fa con il Napoli in campionato è stato decisivo diverse volte in Coppa Italia è stato decisivo grazie ai suoi gol ha fatto andare in finale di Coppa Italia oggi con una doppietta ha quasi quasi non si sa mai ipotecato il passaggio in finale di Champions quindi Iguain deve essere decisivo in Champions è ha fatto doppietta in semifinale e diciamo che mi fa particolarmente piacere che il primo gol è stato il gol degli sfigati perché azione partita da Marchisio che è una merda poi passaggio a Di Bala che secondo vari esperti e grandi giornalisti del fatto quotidiano senza fare nomi è una merda triangolazione con Dani Alves che è un giocatore bollito perché il Barcellona dà via i giocatori quando sono bolliti ti pare che venga la Juve per magari cambiare ambiente provare a vincere altrove no perché è bollito e quindi palla per terminare al giocatore di merda che è decisivo solo in Italia bam tra l'altro cosa mi sembra replicata anche nel secondo tempo o meglio quella merda di Dani Alves che secondo alcuni Juventini deve andare via dalla Juventus ha fatto un altro assist per sempre quello che in Europa non segna mai non mi ricordo da chi parte l'azione però di fatto l'importante è che l'abbiamo piastata al culo quindi adesso tra sei giorni c'è il ritorno 0-3 se perdiamo 0-3 siamo dei coglioni non dico che siamo in finale perché ragazzi grattatevi le palle finché non vi viene fuori la pelle morta però se non ci vai diciamo che sei un coglione comunque ci tengo anche a fare i complimenti a Glick perché quando gioca contro la Juve ha sempre dato esempio di tremenda idiosia con un mix di ignoranza spaventosa mentre invece oggi credo che non sia stato neanche munito e infatti ha difeso fondamentalmente un po' così di merda però vabbè detto ciò se stai godendo come un mufflone arabo ti invito a lasciare un mi piace scrivimi qui sotto i tuoi pareri sul match domani live reaction preparatevi già i fazzoletti like preparatevi un po' tutto io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve grazie a tutti